Siamo qui come tutti gli anni, è un giorno importante, è un giorno particolare e da 24 anni per me è una giornata sempre piena di emozioni e piena di speranze. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, lo sappiamo noi, lo sapete voi cosa pretendete da noi, è una squadra rinnovata, è una squadra concentrata, è una squadra con due piloti molto forti, veloci, consistenti in gara, esperti che sanno che devono correre non per loro stessi ma soprattutto per la Ferrari e sono molto contento di avere due piloti così, Kimi è stato l'ultimo a vincere il Mondiale di Formula 1 e Fernando ha fatto sempre in questi anni arrivando secondo delle stagioni straordinarie. Adesso dobbiamo avere una macchina competitiva, una macchina complicata, lo sarà per tutti, in cui soprattutto nelle prime gare l'affidabilità sarà fondamentale, stiamo e stanno lavorando molto, faccio grande affidamento sul nuovo direttore tecnico James Allison e faccio molto affidamento su un grande lavoro in questi mesi di tutto il gruppo dei motori per fare un motore, ma che non è solo un motore, un sistema anche intorno al motore molto difficile, molto complicato. Domenicali ha molto rinnovato la squadra e sono convinto che ci siano tutte le condizioni per far bene. Sono stufo e siamo stufi di arrivare secondi, anche se noi siamo l'unica squadra forse al mondo che quando arriva secondi è considerata una sconfitta, io ho chiesto ai miei di mettercela tutta e ho molta fiducia. Detto questo aspettiamo le prime prove, quando ci sono regolamenti completamente nuovi bisogna aspettare le prime gare per avere un vero quadro della situazione, però io sono convinto che si vedranno già nelle prossime settimane i veri valori in campo e vorrei una Ferrari che fosse ai massimi livelli. Grazie di starci vicino, lavoriamo tanto e speriamo di toglierci insieme quelle soddisfazioni che tutti vogliamo toglierci.